Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale, in primo piano subito la cronaca e parliamo di un colpo andato a vuoto all'ufficio postale di Prato la Peligna, state vedendo questo supporto fotografico, furto non riuscito la notte scorsa all'ufficio postale di Prato la Peligna con l'impiego della fiamma ossidrica, i gnoti hanno tentato di scardinare lo sportello Postamat cercando di portare via la cassaforte ma hanno trovato difficoltà nella rimozione sull'episodio stanno indagando i carabinieri una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 sulla scala Richter è stata registrata stamane all'Aquila alle 6.26 dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il movimento tellurico ad una profondità di 8 chilometri ha avuto come epicentro il quartiere di Pettino nei pressi della zona di via antica Arischia a nord della città la lieve scossa parzialmente percepita dalla popolazione non ha provocato danni di alcun genere e adesso lasciamo la cronaca che ha aperto il nostro telegiornale parliamo delle elezioni amministrative per quanto riguarda il comune di Sulmona in campo un esercito di candidati domani scade il termine per la presentazione delle liste il servizio è di Andrea D'Auree un esercito di candidati è pronto a scendere in campo per le elezioni comunali del prossimo 5 giugno domani dopo le 12, termine ultimo per presentare le liste a Palazzo San Francesco si conosceranno ufficialmente i nomi dei candidati al Consiglio Comunale i candidati sindaci sono usciti pian piano allo scoperto è corsa a sei per conquistare la poltrona del primo piano di Palazzo Città Anna Maria Casini, noi per Sulmona Elisabetta Bianchi, Forza Italia Alberto Riggian Domenico, Sovranità Alessandro Lucci, Sbic, Sulmona e Movimento Domenico Capaldo, Sell e Bruno Di Masci una ventina dovrebbero essere le liste che appoggiano i sei candidati 14 sono solo di Anna Maria Casini e dell'ex sindaco Bruno Di Masci rispettivamente sei e otto una lista per parte dovrebbe toccare agli altri candidati sarà un tour de force fino all'ultimo per reperire le firme raccogliere documenti e certificati elettorali ma è come questa volta si incontrano non poche difficoltà per chiudere le liste quella che entra nel vivo è la tornata elettorale dove si registra la fine dei partiti scendono in campo infatti solo Forza Italia e Sell a spopolare sono le liste civiche una competizione storica se si considera fra l'altro che ci sono due donne in corsa per la fascia tricolore Elisabetta Bianchi e Anna Maria Casini per conoscere tutti i protagonisti di questa campagna elettorale bisognerà aspettare almeno fino alle 12 di domani alle urne i sulmonesi andranno il 5 giugno in caso di balottaggio vi torneranno due settimane dopo il 19 L'Abruzzo è pronto a lavorare e dare tutto il suo supporto per dire definitivamente sì alle riforme il nostro obiettivo è raggiungere i 400 comitati in tutta la regione accogliere non solo gli iscritti al nostro partito ma quanti vogliono dare il loro contributo per portare avanti questa campagna referendaria sui loro territori di appartenenza questo è quanto afferma il segretario del PD Abruzzo Marco Rapino il prossimo autunno tutti siamo chiamati a segnare un passo decisivo per il nostro paese e i comitati del sì devono essere un ponte di apertura a favore di tutti i cittadini quello che cambia è la prospettiva i cittadini sono e devono essere gli attori protagonisti di un cambiamento radicale un cambiamento che per anni abbiamo atteso e che ora può diventare realtà e adesso la politica aquilana è stato regolarmente depositato il parere obbligatorio da parte dell'organo di revisione riguardante il bilancio consuntivo 2015 del Comune dell'Aquila la riconseguenza la commissione è stata convocata per la prossima settimana prevedendo due sedute lunedì 9 maggio e giovedì 12 maggio alle ore 9 per l'esame della relativa documentazione lo fa sapere il consigliere Giustino Masciocco presidente della prima commissione programmazione e bilancio inizia così dice un periodo particolarmente impegnativo per la commissione che ho l'onore di presiedere in quanto oltre al rendiconto bisognerà a breve esaminare anche il bilancio di previsione 2016 la cui stesura ha incontrato non poche difficoltà a causa del mancato inserimento nella legge di stabilità di somme necessarie a coprire le minori entrate e le maggiori spese che l'ente registra a causa dell'evento sismico ai lavori della commissione programmazione e bilancio fa infine sapere Masciocco parteciperanno oltre all'assessore al bilancio Giovanni Cocciante anche i componenti recentemente nominati nel collegio dei revisori dei conti a cui personalmente e a nome della commissione auguro buon lavoro adesso parliamo di turismo quando il turismo passa per l'eremo ieri è vertice a Pescara con il Parco Nazionale della Maiella per rimettere al centro le potenzialità dei parchi e degli eremi ci dice tutto Andrea D'Aurelio nel servizio farei il punto sulle potenzialità e sulle prospettive di investimento in una logica di marketing territoriale sui tanti eremi abruzzesi per renderli attivi non solo come luogo di culto ma anche come luogo per apprezzare e vivere la natura e per scoprire il patrimonio enogastronomico e artigianale dell'Abruzzo sul territorio vi sono un centinaio tra chiese rupestri ed eremi molti dei quali ancora irraggiungibili i temi in questione sono stati al centro di un convegno che si è svolto ieri pomeriggio a Pescara l'iniziativa è nell'ambito del progetto il sentiero dello spirito gli eremi celestini e rupestri della Maiella e del Morrone dal Medioevo a patrimonio dell'umanità promosso da Italia Nostra in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella mi hanno preso parte tra gli altri il presidente del Parco Franco Iezzi secondo gli esperti far sì che gli eremi esprimano le loro potenzialità vuol dire anche valorizzare il territorio per tutte le sue potenzialità c'è bisogno di arredare le strutture bisogna migliorare la viabilità e la capacità ricettiva delle aree è tutto un sistema che va mosso alla regione si chiede di fare qualcosa perché in quanto a promozione turistica i piccoli comuni da soli possono fare ben poco la società strada dei parchi concessionaria delle autostrade abruzzesi A24 e A25 ritiene ingiustificata oltre che incomprensibile l'iniziativa messa in atto dalle organizzazioni sindacali di settore che hanno proclamato uno sciopero di quattro ore per oggi e l'otto maggio e di otto ore per il 13 e il 15 maggio uno sciopero sostiene strada dei parchi in una nota che ha motivazioni politiche di pura propaganda la società prende atto con stupore che le organizzazioni sindacali hanno fatto circolare su alcuni siti internet attraverso propri comunicati interni rivolti ai dipendenti di costruzioni false e menzogne riguardo agli incontri avuti negli ultimi mesi incontri che erano rivolti a ricercare soluzioni condivise di efficienza e di contenimento dei costi la società infatti prosegue la nota si è dimostrata e continua ad essere disponibile ad un confronto senza arroccarsi su posizioni unilaterali che riguardano le accuse mosse dalle stesse organizzazioni sindacali inoltre strada dei parchi non ha comunicato nessuna riduzione di organico come azione volta a violare quanto sancito dal piano economico finanziario detto questo pur rispettando le scelte e le opinioni di tutti l'azienda non è disposta a consentire che le vicende interne alla contrattazione aziendale divengano pretesto per distorcere fatti e situazioni arrivando a fornire un quadro irreale del lavoro di strada dei parchi e dell'impegno finanziario del suo azionista di riferimento si legge infine nella nota di strada dei parchi e cambiamo decisamente argomento il piccolo cucciolo di cervo adotta opi come suo domicilio turistico e la proloco e il comune lo adottano come ambasciatore social e fanno scegliere il nome dalla community online martedì 3 maggio il cucciolo di cervo ha fatto capolino nel piccolo borgo di opi tra i più belli d'italia nel cuore del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise partendo dalla località Casette fino a visitare il centro storico adottandolo come suo domicilio turistico gli abitanti del borgo hanno subito immortalato la visita inaspettata condividendola sui social la stessa cosa è accaduta ieri mattina quando il piccolo cervo è tornato a casa alle casette l'impressione che non voglia proprio tornare nel bosco avendo toccato con mano che a opi la gente è gentile si respira aria buona e si mangia bene visto l'interesse sulle pagine facebook la proloco e il comune hanno deciso di adottarlo come ambasciatore social del borgo e hanno lanciato un post per scegliere il nome presto si saprà come si chiamerà alla community online l'ardua scelta adesso parliamo di un appuntamento sarà presentato domani alle 18 alla libreria Punto e a Capo in Via Roma a Sulmona il romanzo di Alessio Romano Paradise for All si tratta del romanzo d'esordio dello scrittore pescarese uscito per la collana dei tascabili Bonpiani con una ricca appendice inedita scritta proprio per questa edizione alla presentazione parteciperanno come moderatori l'avvocato Fabio Ranalli e la scrittrice Valentina di Cesare appuntamento dunque per domani alle 18 alla libreria Punto e a Capo in Via Roma a Sulmona e dunque lasciamo anche questo appuntamento che c'è per la giornata di domani adesso voltiamo pagina e ci occupiamo di un altro evento che ci sarà sempre domani domani nella Basilica Cattedrale di San Panfilo alle 18 ci sarà il Giubileo degli Artisti all'evento sono stati invitati gli artisti e le persone del mondo della cultura sentiamo meglio nel servizio di Andrea Daurelli scappellare la pietra del nostro cuore perché affiorino i lineamenti di Cristo l'uomo nuovo questo è il messaggio del Vescovo di Sumonaval Vangelo Spina per il Giubileo degli Artisti e del mondo della cultura che sarà celebrato domani alle ore 18 nella Basilica Cattedrale di San Panfilo a Sulmona invitando gli artisti e le persone del mondo della cultura il Vescovo ha detto è ora che si riallacci quella feconda alleanza tra la Chiesa e l'arte che ha segnato largamente il cammino del Cristianessimo in questi due millenni ciò suppone la vostra capacità cari artisti credenti di vivere profondamente la realtà della fede cristiana così che essa diventi generatrice di cultura e doni al mondo nuove epifanie della bellezza divina riflessa nella creazione venire per celebrare il giubileo prosegue il pastore diocesano significa fissare lo sguardo sul volto di Cristo per riceverne la misericordia e lasciarsi inondare della sua luce il giubileo ci chiede di accogliere questa grazia di risurrezione conclude Monsignor Spina così che essa penetri in tutte le pieghe della vostra vita risanandola non solo dal peccato ma anche dalle scorie che esso lascia in noi persino dopo che ci siamo riconciliati con Dio adesso parliamo di un evento di sport di basket che ci sarà domani all'Aquila un evento che interesserà il centro-sud perché si terranno domani all'Aquila le finali dello special basket torneo promosso da special olympic Italia dedicato alla palacanestro che iniziato nel gennaio scorso sta impegnando oltre 600 atleti con e senza disabilità intellettiva coinvolgendo 11 regioni italiane l'Aquila è stata scelta come tappa finale del torneo centro-sud e isole dalle 10 alle 18 di domani le palestre della scuola media patini e del convitto nazionale domenico cotugno ospiteranno oltre 200 atleti provenienti da Lazio, Marche, Toscana, Sardegna, Sicilia ed Abruzzo è la prima volta che il territorio aquilano ospita una finale di questo genere sportivo o sociale grazie alla volontà dell'associazione sportiva dilettantistica Team Sport all'Aquila unico team in tutta la regione che può vantare dopo appena un anno di attività ben due squadre iscritte al torneo in maniera specifica alla categoria 5 squadre composte da 6 atleti con disabilità intellettive e 4 atleti normodotati oltre al torneo avrà luogo anche il torneo tradizionale con squadre composte da soli atleti con disabilità intellettive quindi appuntamento nella giornata di domani nel capoluogo di regione non ci sono altri aggiornamenti quindi ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo telegiornale prima però dobbiamo vedere i film in programmazione alla multisala IJoland di Corfinio Capitano America alle 18.10 e 21.10 The Dressmaker Il Diavolo è Tornato alle 18.20 e 21.10 Robinson Crossway alle 18.00 bene dopo i film in programmazione ad IJoland possiamo concludere questa edizione del giorno del nostro telegiornale prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo buona giornata a tutti voi arrivederci tempo migliore rispetto ai giorni scorsi ma non mancherà l'instabilità sulla nostra regione dove ci sono condizioni di cielo sereno poco nuvoloso con annuvolamenti sulle zone interne e montuose non si escludono rovesci temporaleschi più probabili sulla Marsica, Alto Sangro e nel vicino Lazio in attenuazione innottata poche le novità nel corso della giornata di domani temperature in lieva aumento specie nei valori massimi venti deboli dai quadranti orientali con residui rinforzi specie lungo la fascia costiera occidentali sulle zone montuose mare poco mosso o localmente mosso musica musica